Torino è capitale dei microrganismi perché da tanti anni qui c'è una sinergia di intenti in cui tanti dipartimenti lavorano su gruppi diversi di microrganismi, virus, batteri, funghi filamentosi e lieviti, in cui abbiamo creato una delle più grandi biobanche di microrganismi a livello nazionale, in questo momento sparse nei diversi dipartimenti conserviamo circa 20.000 ceppi di microrganismi. Questo progetto sfrutta i bandi PNRR per finanziare con grandi attrezzature all'avanguardia 15 istituzioni a livello nazionale coordinate dall'Università di Torino. Lo scopo di questo progetto è quindi di dotarci di grandi attrezzature che ci permetteranno di sviscerare tutte le conoscenze che possiamo ottenere da questi organismi per valorizzarli in diversi settori biotecnologici. Ci avvarremo anche di grandi competenze informatiche per creare una piattaforma nazionale che permetta proprio a tutti, dal mondo accademico al mondo industriale, di interagire con noi con grandissima facilità e di mettere a disposizione di tutta la comunità tutti i dati che a livello nazionale produrremo in questi tre anni. Grazie. 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 Grazie.